quattro elementi che indicano che sei una persona di valore. Numero uno resilienza. Le persone di valore affrontano le sfide con entusiasmo e tu che sei una persona di valore hai capito che la sconfitta è soltanto una possibilità di imparare per diventare poi più forti ed esperti. Numero due sei empatico o empatica. L'empatia è il marchio delle persone di valore. Chi ha empatia come te è in grado di trasmettere valore e forza in tutto quello che fa. Io sono il dottor Pierluigi Avolio, sono psicologo e mental coach e sono disponibile ad ascoltarti. Numero tre sei una persona di impatto. Una persona di valore offre supporto, gentilezza e incoraggiamento. Numero quattro sei in continua crescita. La persona di valore cerca sempre di evolvere, di imparare, di espandere il proprio orizzonte. Questo atteggiamento è una costante delle persone di valore. Salva questo video per poterlo rivedere ogni volta che vorrai.